Incendio alle 20.30 di ieri a Castellettiano alle porte di Perugia, a fuoco una canna fumaria, le fiamme hanno interessato anche il tetto di legno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con APS e un'autoscala che sono arrivati in supporto della squadra di Corso Cavoro. Come comunicano dalla centrale operativa di Madonna Alta di Perugia nel rogo e come si vede dalle immagini, c'è stata anche la parziale lesione del tetto. È servito rimuovere i coppi e taglio con motosega. I pompieri hanno tagliato la parte in legno che è andata bruciata. Con il martello pneumatico è stato rimosso anche il comignolo, anche per una questione di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita, almeno stando a quanto dichiarato dai vigili del fuoco.